Ciao amici sono Lox, bentornati sui Fatti e l'Opinione di Lox, il canale per i veri malati di sport. Proseguiamo la nostra giornata in Serie B, dopo aver assistito alla sorprendente vittoria della Spal sul terreno del Lecce, ho seguito la partita del Frosinone. Ero curioso di vedere gli uomini di Grosso se sarebbero riusciti a ottenere finalmente il primo successo sotto la nuova guida tecnica, erano posti al Cittadella. La partita onestamente non particolarmente indimenticabile, punteggio finale, pareggio ancora. Uno pari il punteggio finale, anche stavolta il Frosinone, diciamo, da un punto di vista dell'energia, della grinta, della vita, diciamo, io credo che la formazione di Grosso sia una formazione che esiste, che c'è, che combatte. Da un punto di vista tecnico ancora tanta confusione, da un punto di vista dei risultati, siamo qui anche questa volta a parlare soltanto di un pareggio. Sono due squadre in grande difficoltà, non vincono da parecchio tempo, hanno diversi obiettivi, il Frosinone è in questa terra di mezzo, tra cercare di evitare di essere risucchiati nella lotta per i play-out e avere ancora qualche ambizione per i play-off. Il Cittadella, che era molto forte, molto avanti in classifica nel girone d'andata, si è inserito in un tunnel invece di risultati un po' più negativi e sta cercando di mantenere il posto nella griglia play-off. La partita è stata conseguente alla situazione di classifica delle due squadre. Devo dire, mi è piaciuto un po' di più il Cittadella nel primo tempo, un po' di più il Frosinone nel secondo tempo. Il punteggio di parità ci può stare, l'Ereti, primo tempo, gol al ventesimo minuto, ha segnato il Cittadella che si è portato in vantaggio, con una bella azione sulla sinistra, un cross al centro di Donna Rumma. Molto bravo Beretta, il bomber Beretta, che ha anticipato Zampano, c'è stato anche un contatto con il difensore Zampano. Beretta ha battuto Bardi un po' incerto in questo caso nell'uscita e ha portato in vantaggio il Cittadella. Reazione del Frosinone così così, non c'è stato niente di particolare, se non una sorprendente calcio di rigore assegnato al minuto 25, quindi 5 minuti dopo, quando in un'azione nella quale Rodien ha colpito, sostanzialmente sbilanciando Donna Rumma, Donna Rumma in aria, ha colpito la palla con la mano, l'arbitro di Luzi ha concesso il calcio di rigore. Calcio di rigore tirato da Iemmello, parato da Castrati. Quindi la grande occasione per il Frosinone di pareggiare una partita, bandata male per la parata ottima del portiere del Cittadella. Cittadella migliore nel primo tempo, Frosinone molta confusione, tentativi di fare qualcosa, ma niente di particolarmente trascendentale. Nel secondo tempo una buona mossa di grosso all'intervallo, perché è entrato Tribuzzi. Tribuzzi nettamente, a mio avviso, oggi il migliore in campo per il Frosinone, ha dato molta spinta in attacco e proprio dalla sua azione al minuto 56 è nato il gol del pareggio. Una bella azione di Tribuzzi, un cross al centro, Brighenti si è inserito dalla fascia, è nato a colpire la palla di testa e ha realizzato il gol del pareggio. Sul 1-1 credevo e onestamente il Frosinone si è messo a fare qualcosa in più. Il Cittadella ha accusato il colpo del pareggio, ha fatto fatica a ripresentarsi ancora in avanti, il Frosinone ha alzato un pochino il baricentro del proprio gioco, ha cercato di costruire qualche occasione da rete in più, ma onestamente, come sempre sul taccuino, non c'è molto da segnalare. Anzi, la migliore occasione è stata ancora per il Cittadella perché al 73esimo, su un calcio d'angolo, un combinato dei due difensori centrali, Perticoni e Frara, fra la legge Frara, scusate, leggermente in ritardo, ha mancato il contatto con il gol. Frosinone che cercava di fare qualcosa in più, ma Cittadella che ha provato a vincere perché all'83esimo sostituzione, è uscito Perticoni, è entrato d'Urso, quindi cambio offensivo, tentativo di fare il forse in finale, rovinato tre minuti dopo dal secondo giallo a Donnarumma, che ha portato all'espulsione del giocatore del Cittadella, del Crescino del Cittadella, finalmente Crosso ha inserito una seconda punta, il polacco Paricek, che però ha subito soltanto una trattenuta da Camigliano nel finale, ma troppo poco per ottenere un calcio di rigore, ma non è riuscito a fare niente di particolarmente decisivo neanche lui, c'è stata una bella azione in area ancora di Tribuzzi con un bel salvataggio di Iori e la partita è andata a concludersi sull'1-1. Credo una partita di rimpianti per entrambe le squadre, un punto che serve il giusto, il Cittadella con questo risultato si pone al settimo posto in classifica, ha 47 punti, mantiene 3 punti di vantaggio sul Brescia, che è la prima delle squadre fuori dalla griglia dei play-off. Frosinone invece con questo pareggio si porta a 40 punti, sta al 14esimo posto e ha un vantaggio di 6 punti sul play-out e ha 5 punti ancora dai play-off, ma il Chievo ha due partite da recuperare ancora rispetto alle partite giocate dal Frosinone, ovvero Frosinone che mancano 5 giornate, sta vivacchiando, sta rischiando di essere risucchiato, non riesce a vincere, però credo che questa partita sia stata delle 3 che ho visto da quando c'è sulla panchina un po' la migliore, anche se ancora molto c'è da fare e la solità difensiva mi sembra abbastanza ritrovata, mi sembra abbastanza buona, si fa veramente fatica davanti a segnare, oggi Emelo al di là del rigore sbagliato non mi è piaciuto molto, così non mi era piaciuto Novakovic a Salerno, Parijek mi piacerebbe vederlo di più, se non altro per la conformazione del giocatore, ma non so neanche lui quanto potrebbe fare di meglio, Tribuzzi molto buono, potrebbe giocare qualche momento in più probabilmente perché mi sembra uno dei giocatori più in forma del Frosinone in questo momento, migliore in campo, per il Frosinone Tribuzzi naturalmente è Zampano, soprattutto nel primo tempo molto bravo, per invece il Cittadella Castrati per il rigore parato, dietro Perticone molto bene e Beretta in avanti al di là del gol, ha giocato una buona partita, ha tenuto molto impegnato sempre la retroguarda del Frosinone. Qualche statistica sull'incontro, possesso di pallo molto equilibrio, 49-51, tiri totali 19-12 nello specchio 7-5 per il Frosinone. Arbitro dell'incontro il Luzzi di Molfetta, capitolo a parte, lo facciamo comunque velocemente, ma per lui 38 falli e 9 cartellini gialli in 60 minuti. Per mezz'ora arbitrato in un modo, ovvero non era sostanzialmente quasi mai fallo, il calcio di rigore concesso al Frosinone obiettivamente mi sembra una delle peggiori decisioni che abbia visto in questa stagione, perché Roden ha sbilanciato in una maniera evidente il difensore della Cittadella, non vedo come si possa concedere un calcio di rigore in queste condizioni, c'è dei dubbi, ha anche la spinta su Beretta, però sembra il gol del Cittadella, c'è Beretta che va molto duro su Zampano nell'intervento, secondo me ci può stare, si poteva fischiare, però sembrava un metro dove non veniva praticamente fischiato quasi mai fallo. Dal trentesimo la partita si è nervosita, ha cominciato a fischiare di tutto, nove cartellini gialli, da un certo punto di vista anche sostenibili, ok, però il metro è diventato veramente molto stretto, il suo arbitraggio mi è apparso molto confuso, il voto per lui è 5. Teleronaca dell'incontro, Gabriele Giustiniani, voto 7,5, è il mio telecronista preferito di Dazon, da solo, non ha parlato di esterni, non ha parlato di quinti, non ha parlato di i soliti controlli orientati, le preventive, tutte le solite teorie che ci vengono propinate dai commentatori tipo di Sky o certe altre volte anche da commentatori tecnici, per cui bravo Giustiniani, anche stavolta aveva fatto Venezia Lecce molto bene e anche oggi mi è molto piaciuta la sua telecronaca, bravo, voto 7,5. Quindi ragazzi, vi ringrazio come sempre, like se vi piace il video, commenti, iscrivetevi al canale, campanella per essere informati dei prossimi contenuti, noi completeremo la giornata più avanti con un'incursione nel campionato turco e poi Ascoli Monza che sono riuscito fino ad ora a stare ignaro sul quanto sia finita questa partita. Ci vediamo più tardi. Grazie ragazzi, un saluto a più tardi, ciao.